Benvenuti sul canale. Oggi vi portiamo le anticipazioni dell'episodio del 18 luglio della Promessa. Prepariamoci a scoprire cosa accadrà quando Cruz caccia Abel dal palazzo, mentre Pia saluta commossa Dieghito. Inoltre, Hana interroga Manuel su sua madre, portando a galla ricordi sepolti, e fa una confessione che sconvolgerà suo fratello Curro. Non perdete nessun dettaglio. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Se amate La Promessa tanto quanto noi, lasciate un like a questo video. Cominciamo. Quando Lorenzo chiede a Donna Cruz se vuole che uccida Margarita, lei risponde direttamente che non desidera la sua morte, ma gli chiede di utilizzare tutte le sue abilità per evitare che Margarita si porti via alla sua parte della Promessa. In un'altra scena, Candela torna tardi dal paese dopo aver conosciuto la figlia di Carlos e finalmente confessa a Pia e Simona che la ragazza non le è piaciuta molto, dato che sembra avere un carattere difficile. Manuel, con il cavallo di legno scolpito per suo figlio tra le mani, appare molto malinconico. Sua madre cerca di consolarlo, dicendogli che deve essere forte e andare avanti, poiché Jimena potrà rimanere incinta di nuovo, se Dio lo vorrà. Manuel soffre molto per non aver potuto salutare il suo falso figlio e decide di gettare il cavallo di legno nel camino per bruciarlo. Improvvisamente arrivano Donna Mercedes e sua figlia Jimena e di fronte alla Marchesa Jimena finge di svenire. Donna Mercedes dice a Cruz che, nonostante la tragedia vissuta, vede la coppia molto unita e che presto correranno per il palazzo tanti bambini. Nella lavanderia Petra cerca chi ha stirato una camicetta della Marchesa, dato che non è ben fatta. Teresa si offre di stirarla nuovamente. Petra chiede a Teresa come ha visto suo fratello Felisiano durante la sua assenza e, prevedibilmente, Teresa non le dice nulla. I Marchesi stanno parlando quando appaiono Catalina e Pelaio, dicendo che andranno al villaggio a provare le marmellate preparate dalle donne. Cruz risponde che preferirebbe gettarsi da un ponte piuttosto che andare a provare marmellate di casa in casa e avverte di fare attenzione a non portare pidocchi e cimici al palazzo visitando quelle capanne del villaggio. Catalina e Pelaio mettono al suo posto la Marchesa, dicendo che tutte quelle donne sono pulite e volenterose, oltre a lottare per migliorare la propria qualità di vita. Alla fine, quando Catalina e Pelaio se ne vanno, il Marchese dice a sua moglie che sembra che sua figlia vada molto d'accordo con il conte. Donna Cruz risponde che, conoscendo Catalina, probabilmente prima o poi finirà per spaventare il ragazzo e se ne andrà via. Abel chiede a Ximena se Manuel sospetta qualcosa del loro inganno. Il medico le raccomanda di essere estremamente cauta, ma sembra che Ximena sia molto angosciata nella sua stanza. Improvvisamente arriva donna Mercedes e il medico cerca di nascondere la verità, ma Ximena gli dice che non c'è bisogno, poiché sua madre è a conoscenza di tutto e, inoltre, dal suo portafoglio esce il salario supplementare per il medico. Abel comunica che ora sarebbe opportuno che lui lasciasse la promessa, dato che non c'è più una gravidanza da seguire, ma madre e figlia rispondono che non può andarsene e, se la Marchesa non è d'accordo, diranno che d'ora in poi il suo salario verrà pagato dalla duchessa dello Sinfantes. Nel frattempo, giù in cucina, il maestro don Carlos parla con Simona e le chiede se sua figlia è stata piacevole per Candela. Simona gli mente dicendo di sì. All'improvviso appare Candela e Simona si ritira per lasciarli soli. Candela non sa come dirgli che sua figlia non le è piaciuta e alla fine finisce per mentirgli, proprio come ha fatto Simona. Inoltre, confessa a Carlos che alla promessa sanno del suo trasferimento, ma non ha voluto dire che sarà imminente perché non vuole salutare tutti prima di andarsene. Carlos le dà un bacio e le dice che dopo domani passerà a prenderla per andare via definitivamente. Ma prima il maestro passa dall'ufficio del maggiordomo Romulo per salutarlo e ringraziarlo per averlo assunto al palazzo. Romulo lo prega di prendersi molta cura di Candela e gli augura tutto il bene, aggiungendo che, se mai dovessero avere bisogno di aiuto, lì troveranno sempre la loro disponibilità. Manuel e Hana parlano di Simona e del suo stato d'animo. Manuel sembra incapace di superare la perdita del suo falso bambino. Cercando di reagire cambia argomento e chiede di Ramona. Hana coglie l'occasione per parlargli di Dolores, sua madre. Manuel la ricorda vagamente da quando era bambino. Ha un ricordo piacevole di quella donna e ricorda persino che aveva una graziosa bambina. Improvvisamente appare Jimena, interrompendoli. Lady bugiarda chiede a Manuel di accompagnarla a fare una passeggiata. Manuel risponde che deve riposare, ma Hana interviene, dicendo che Jimena ha ragione e che una passeggiata nel giardino potrebbe farle bene. Nel frattempo la marchesa convoca Abel e gli dice in faccia che è un medico mediocre e che farebbe meglio a dedicarsi a qualcos'altro piuttosto che alla medicina. Secondo la marchesa ha incoraggiato sua nuora a compiere atti non appropriati per una donna incinta e gli chiede di prendere le sue cose e andarsene immediatamente. Il medico risponde informandola che la duchessa dello Sinfantes si è offerta di pagare il suo stipendio. Donna Cruz chiama suo figlio Manuel e davanti ad Abel gli dice che il medico è incompetente e che deve andarsene immediatamente dal palazzo. Manuel chiede ad Abel di lasciarlo solo con sua madre per parlare. Dice a Cruz che Abel non ha colpa per il fallimento della gravidanza e le chiede di permettere al medico di restare al palazzo. Donna Cruz è furiosa e dice a suo figlio che sembra che tutti nel palazzo si siano messi contro di lei e che a lei non resta altro che sopportare e accettare. Simona parla con Pia riguardo alla partenza di Candela quando improvvisamente la governante trova un regalo impacchettato. Lo aprono e scoprono che si tratta di un vestitino per Dieghito. Non sanno chi lo abbia mandato ma lo mettono nella valigia del bambino che verrà portato a casa di Benny, la moglie del mugnaio. Hannah, Teresa e Maria Fernandez sono nella lavanderia e parlano di Simena. Hannah racconta loro di averla vista sorridere mentre abbracciava Manuel quindi sembra che per lei perdere il bambino sia stata la cosa migliore che potesse accadere. Nel frattempo il marchese si trova nel giardino a fare dei conti quando arriva sua figlia Catalina che lo incoraggia e si offre di aiutarlo se ne ha bisogno. Il marchese le chiede come sia andata la degustazione di marmellate nel villaggio e Catalina risponde che è andata splendidamente aggiungendo che domani porteranno le marmellate alla promessa per spedirle all'hotel di Madrid. Suo padre osserva che sembra esserci una buona connessione tra lei e Pelaio e le chiede se c'è qualcosa di più. Catalina risponde che si trova bene con Pelaio e che si divertono molto insieme ma che non c'è nulla di romantico sono solo soci e probabilmente buoni amici. Più tardi nella zona del servizio Salvador chiede a Mauro se ultimamente c'è qualcosa tra lui e Teresa notando che la guarda in modo diverso. Mauro confessa che vorrebbe riconquistare ciò che ha perso a causa del suo errore e che se potesse tornare indietro farebbe le cose diversamente. Salvador replica che lo capisce più di quanto creda perché anche lui farebbe alcune cose diversamente. Mentre Pia tiene in braccio suo figlio sente quanto sia difficile pensare che crescerà lontano da lei. Hana la consola dicendo che saranno molto vicini e che si vedranno spesso e la governante la ringrazia per l'incoraggiamento. Hana se ne va e Pia parla a suo figlio dicendogli che dovranno separarsi di nuovo ma che lo lascerà nelle mani di una donna meravigliosa che se ne prenderà cura. Anche se si sente come se lo strappasse dalle sue viscere di nuovo lo fa perché è il meglio per lui e per il suo futuro. Inoltre gli dice che lo ama come non ha mai amato nessuno e che veglierà sempre su di lui. Nel frattempo nella sala da gioco la marchesa aspetta il capitano il quale le racconta che il notaio si presenterà lì in due giorni e le dice che nel contratto di cessione delle scritture includerà una clausola controversa specificando che margarita non potrà dire che la sua parte della promessa l'ha vinta a poker. Ma questa è solo una manovra di distrazione per camuffare un'altra clausola che dice che il capitano potrà riacquistare la sua parte della promessa per un importo irrisorio entro 30 giorni. L'obiettivo del capitano è distrarre margarita con la prima clausola e farla firmare senza vedere l'altra. Vedremo se riuscirà a farlo perché come abbiamo potuto verificare margarita è molto astuta. Dall'altra parte hana parla con suo fratello curro e confessa i suoi sospetti sul fatto che la marchesa abbia avuto a che fare con la scomparsa di ramona. Gli dice chiaramente che c'è sua zia dietro la scomparsa di ramona. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie scrivete voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!